Era gennaio 2015 quando in via Romita si verificò il crollo del muro di sostegno portandosi via anche un pezzo di marciapiedi. Tanta paura soprattutto per i residenti della zona e del tratto finale della strada interessato dal cedimento. Adesso a distanza di poco più di sette anni i lavori di messa in sicurezza sono iniziati già da qualche settimana. Lavori che saranno utili anche in vista del progetto di realizzazione del collegamento tra via Romita e via Rochester così come ci spiega l'assessore a ramo Marcello Frangiamone. Sono in corso i lavori per la sistemazione della tratta finale dell'attuale via Romita che parecchi anni or sono franò e i lavori consistono appunto nella risistemazione del muro di sostegno di questa curva per appunto rimetterla, per risistemarla diciamo per come era previsto. Questo lavoro diventa fondamentale perché a seguire sempre lungo la via Romita si innesterà quella che sarà la futura strada che partirà appunto da quella zona, quindi da via Romita stesso per arrivare fino a via Rochester. Si tratta di un lavoro che è stato finanziato dal PNRR per quanto concerne appunto questi lavori. Siamo in fase di progettazione, in questo momento è stato fatto il rilievo topografico dell'area, qui seguirà poi il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori e poi successivamente appunto si andrà in appalto e si realizzerà l'opera.